Sono trascorsi 80 anni, era il 26 gennaio 1943, gli alpini della seconda divisione tridentina e del battaglione Edolo, in rotta dal fronte del Don, sfiniti da più di 10 giorni di ritirata sotto il fuoco dell'armata rossa, a Nikolaevka, un villaggio russo al confine con l'Ucraina, riuscirono a rompere l'accerchiamento e ad aprirsi la strada verso le linee interne. Solo 13.000 alpini riuscirono a tornare a casa, 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o prigionieri. È importante ricordare quella battaglia perché, pur essendo noi in quel momento un esercito di conquista e di occupazione, quella battaglia non è stata di conquista ma è stata una battaglia per tornare, come diciamo noi, a baita, per tornare a casa. Una presa di coscienza di quell'errore fondamentale e la grande volontà di tutti i componenti, purtroppo pochi sono riusciti a farlo, di tornare veramente a baita. Un importante contributo alla memoria lo hanno dato gli scrittori che erano a Nicola Yevka, Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli e De Gisto Corradi, ma anche il beato Don Carlo Gnocchi, allora cappellano della Tridentina, che raccolse le ultime volontà degli alpini mortalmente feriti e le riportò alle famiglie in patria. Una legge dello scorso anno ha proclamato il 26 gennaio, giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini. Quella battaglia avrebbe dovuto insegnarci molto, ai nostri redditi ha insegnato, ha insegnato a trasmettere a noi, che eravamo i bocci di allora, ai bocci di oggi, ai giovani, che il valore fondamentale della convivenza, della pace sono insostituibili. Purtroppo la guerra in Ucraina ce lo sta dimostrando anche in questi giorni.